Ciao e benvenuti a questo video. Oggi volevo farti vedere come fare a eseguire questo esercizio in cppu. Allora, creare un array di 5 elementi interi generati casualmente nell'intervallo 0-10, possiamo introdurre, pensare a 10 escluso, e chiedere all'utente un numero e dire se il numero appartiene al vettore. Se l'utente inserisce il menu 1, uscire dal programma. Abbastanza facile. Proviamo a vedere passo a passo come fare. Allora, inizio includendo le due librerie cstdlib e ctime che mi servono per gestire i numeri casuali. Inizializzo il generatore di numeri casuali con stdsrand, stdtime, null pointer. Ok. Ora creiamo una funzione che crei, inizializzo questo array, l'array lo aggiungiamo qua, int, array di, facciamo 5 elementi, possiamo fare costante, ovviamente, constint, n uguale 5, e l'array è di n elementi. Adesso abbiamo bisogno di una funzione, che farà intarray, e gli passiamo all'array. Questa funzione non c'è, la definiamo subito. È una funzione, il cui prototipo è questo, quindi l'assegnatura sarà una funzione void, che ha un interray e che accetta un vettore di interi. Ovviamente se non si lamenta più il compilatore, ma la funzione non è definita. Abbiamo fatto la dichiarazione e adesso facciamo definizione. Allora, questo lo chiamiamo v, cosa facciamo? Qui dobbiamo ciclare il vettore. Vi ricordo che quando noi andiamo a passare un vettore a una funzione, questo viene un passaggio per riferimento, quindi le modifiche che io faccio qua al vettore v sono in realtà le modifiche che faccio all'array che vado a passare alla funzione. Quindi r sarà modificato all'interno della funzione. Quindi in più uguale a 0, posso usare anche auto, perché tanto lo deduce il compilatore in base al tipo di n, in base a quell'istruzione lì. E più, più, ok. Adesso cosa dico? Dico che vdd è uguale a stdrand. Questo genera un numero tra 0 e il massimo numero intero rappresentabile. Se faccio un modulo 10 mi dà i numeri da 0 a 9. Basta, finito. Ho inizializzato il mio array. Adesso dovrò chiedere all'utente un valore, gli chiamo int x. Ups, ho fatto a metà questa, però non lo dovevo. Allora, ho sbagliato una cosa. Ovviamente l'inizializzazione dei numeri casuali va prima di tutto qua. Ecco, adesso c'è ordine. Altrimenti genera sempre gli stessi numeri perché va inizializzato il generatore dei numeri casuali. Altrimenti non funziona. Chiedo all'utente di darmi il valore di x. Che valore vuoi cercare? Chiamo meno 1 per uscire. Ok. Poi qua farò std cin e x. Quindi recupero il valore di x e adesso dobbiamo andare a cercarlo all'interno del vettore. Allora, come facciamo a cercarlo? Beh, facciamo un ciclo for. Un esercizio, puoi provare a metterlo in una funzione. dico che se l'array in indice i è uguale a x attenzione qua perché c'è un problema. Cioè, questa parte dovrò ripeterla fino a che x non è uguale a meno 1. Quindi farò do. Ripeto questo while x è diverso da meno 1. Quindi questo dice se l'array è uguale a x allora dirò che ho trovato l'elemento quindi dovrò dire std cout oppure possiamo fare così. Dichiariamo una variabile found e pull found uguale a false se lo troviamo diciamo che found uguale a true questa non è la soluzione ottimale qua dovrei dirgli di uscire dal for usando una chiamata break così almeno diciamo appena lo trovi esci ok quando arrivo qua se found è false quindi non l'ho mai trovato evidentemente sdd cout diremo che if se found allora direi che numero trovato e poi andrà avanti quindi ripeterà ripeterà vediamo se abbiamo ok scritto ok quindi mancano due punti perfetto allora adesso se l'ha trovato non dice che l'ha trovato altrimenti in altri casi numero non trovato e poi ritornerà in avanti a meno che non abbia inserito meno uno allora in realtà in questo caso è vero il fatto che se è uguale a meno uno qua non funziona benissimo questo questo tipo di di ciclo nel senso che io non voglio fargli fare la ricerca se x è uguale a meno uno quindi qua dovrei dire che se x è diverso da meno uno allora eseguo il codice che c'è qua dentro tutto il codice altrimenti non voglio che faccia nulla voglio soltanto che esca qua puoi pensare magari proponimi una tua soluzione un po' più elegante per questo problema cioè noi vogliamo eseguire sostanzialmente il contenuto di questo blocco di codice quindi il nostro programma in realtà soltanto nel caso in cui effettivamente la x è diverso da meno uno se la x è uguale a meno uno non vogliamo eseguire niente in realtà potrei dire che se x è uguale a uno di ritornare direttamente dal programma però è una soluzione è un pochino brutale possiamo provare a eseguire che numero vuoi cercare non lo so il 4 non c'è il 5 non c'è il 3 non c'è il 7 non c'è mmm siamo sicuri? allora siamo proprio sicuri che funzioni perché è stranissimo che non ci siano tutti i numeri ok proviamo a farlo stampare allora quindi facciamo la prima cosa stampiamo stampiamo e diciamo proviamo a vedere stoppiamo e rieseguiamo ah ok ok eravamo soltanto stati sfortunati prima diamo il 4 non c'è il 7 c'è ok il 6 meno 1 usciamo perfetto abbiamo risolto il nostro problema o ti invito a provare a trovare una soluzione un po' più elegante a questo tipo di situazione però questo sostanzialmente è la risoluzione del nostro esercizio con questo è tutto grazie per l'attenzione e a presto ciao grazie a tutti grazie a tutti